Il Golden Gate Garrison, un'organizzazione di costuming di Star Wars, ha organizzato questa marcia pacifica attraverso il Golden State di San Francisco a sostegno di Kevin Doyle, un loro compagno che ha perso la moglie per cancro. Più di 50 cacciatori d'Italia, funzionari e truppe imperiali hanno marciato per accogliere fondi, guidati da Darth Vader ovviamente.